stasera vi preparo una sorpresa fai un secondo i tortellini dolce al gorgonzola non hai indovinato ve lo dico per forza ve lo dico cheesecake al gorgonzola nonna sei super dormitissimo la cheesecake è buonissima ma con i grassi contenuti nel gorgonzola non è un pochino pesante ma stefi sono più grassa io il gorgonzola è davvero una sorpresa pensa che possiede solo 27 grammi di grassi su 100 di prodotto ecco perché è gustoso e al tempo stesso leggero e grazie all'intensa attività microbica durante la stagionatura è altamente digeribile guarda mamma il consorzio dice che nel gorgonzola di opi anche il calcio è altamente biodisponibile e che il rapporto calcio fosforo è ottimale questo assicura le migliori condizioni di assorbimento il gorgonzola è un formaggio buono e senza segreti certo quando si è informati si mangia meglio e si gusta ancora meglio michelino intanto noi prepariamo degli stuzzichini sfiziosi e leggeri e io proporrei degli spiedini di gorgonzola di uva e di noci tu cosa ne dici io dico che ti adoro allora si comincia col dolce piccante la vita vola parola di nonna zola grazie 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 grazie